Undicesima giornata del campionato di Serie C che andrà in scena questo weekend. Insieme a Lavellini impegnati al partenio contro il Messina, la Turris sfiderà in trasferto il Taranto. I Corrallini non dovranno sottovalutare il match, visto che la squadra di Mister Gautier è uscita sconfitta dal match contro il Crotone, ma ha dato filo da torcere ai Pitagorici. Nel turno precedente proprio la formazione pugliese ha battuto l'ambizioso Picerno 1-0, segno evidente di come non vada sottovalutata la gara. La Turris vive un buon momento, le due vittorie consecutive sono una dimostrazione pratica e certamente si vuole approfittare di questa sfida per mettere altri punti in classifica. Alle 15.30 invece occhi puntati sul derby tra Benevento e Casertana. I giallorossi vogliono continuare il proprio cammino tenendo ben saldo il primo posto in classifica con uno score molto positivo ottenuto nelle ultime quattro partite, con tre vittorie conquistate e un pari. La Casertana andrà a caccio dell'impresa con una situazione difensiva di emergenza. Ainz e Bacchetti, entrambe le prese con problemi di carattere muscolare, anche ieri hanno seguito un programma di lavoro personalizzato e la loro presenza per domani continua a essere in forte dubbio. Alle 17.30 il Giuliano, altra gara campana del Gironi C, sfiderà tra le mura di casa il Crotone. Le Tigri campane sono riduci dalla sconfitta contro la Turris, ma prima ancora avevano ottenuto due vittorie consecutive contro Juventus e Latina. La sfida contro i Pitagorici vede i campani con sei punti in più rispetto agli avversari, con la squadra di Longo che vuole approfittare per accorciare di stack e rientrare nella griglia playoff. Il tecnico ai calabresi chiede continuità alla propria squadra. Preferisco lavorare sulla singola partita. A Giuliano mi aspetto delle risposte sulla continuità e di una squadra che deve avere lo spirito di sacrificarsi. Queste le parole di Longo. Altra sfida dell'undicesima giornata vedrà il Sorrento sfidare il Foggia. I campani vogliono uscire dal momento negativo che li ha visti uscire sconfitti dalle sfide contro Benilento e Cerignola. Due formazioni di alta classifica, mentre i satanelli pugliesi sono riduci da due pareggi contro Potenza e Catania.